Continua il duello a distanza tra la Lega e il manager dell'ASL, uno Roberto Testa. Luigi Deramo, deputato e coordinatore regionale del Carroccio, ha sin dall'inizio criticato la gestione dell'ASL e lo spunto è arrivato anche dalla mancanza di dosi di vaccini nella giornata di ieri nel punto di somministrazione a Bazzano. La gestione testa è alle comiche finali per Deramo. L'ASL però gli ha risposto con i numeri, superate le 130.000 vaccinazioni in provincia relativamente a Bazzano e il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Domenico Pompei, ha spiegato che Bazzano è rimasto fermo per alcune ore perché le dosi erano terminate e sono state consegnate più tardi. Si recupererà nel fine settimana, ha assicurato Deramo. Però continua a essere molto critico, dice che serve uno scatto di reni, per ridare credibilità alla governance. Annunciato che stanno portando avanti l'istituzione della commissione d'indagine per fare chiarezza e per far sì che chi ha sbagliato paghi. La dimostrazione non sono le sottolineature o le denunce politiche che io porto avanti ormai da tantissimo tempo ma lo si può riscontrare dai disagi e lamentele che quotidianamente emergono su tutti i territori. Leggevo proprio questa mattina della situazione allucinante che si è verificata in Barsica dove non solo c'è una carenza di vaccini ma le persone restano ammassate per ore senza alcuna comunicazione sotto il sole, sotto le intemperie. C'è stata una disorganizzazione totale e sarebbe sciocco e cieco da parte della politica se non portassimo avanti un'azione di verità e di denuncia e contestualmente mettere in campo tutte le iniziative possibili per colmare le deficienze della dirigenza di questa ASL. Non è l'unico problema segnalato. Alcuni utenti hanno fatto notare errori nell'invio dell'SMS per l'effettuazione del vaccino che recava ancora l'indicazione di via Ficara, centro ormai chiuso. La ASL anche in questo caso ha spiegato che non dipende da loro che avevano tempestivamente comunicato il cambio di sede alle poste che gestiscono la piattaforma. Le ombre sollevate sulla gestione ASL insomma sono diversi di pochi giorni fa anche il caso dell'assistente sociale a Civitella Roveto e guardando dall'esterno si ha la sensazione che sia in corso una vera e propria guerra. L'operato del manager della ASL 1 sarebbe sotto osservazione anche da parte del governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio.